e giochi la volet la tentazione qual è quello di stendere la mano per andare a prenderti la palla il momento in cui tu fai questo la palla ti muore lì tieni questo assetto qui con la racchetta 90 gradi e usa il gomito in questo modo tu la tagli eccola la ascolta il corpo lascialo andare se stai correndo eccola lì